Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Nel video di oggi andrò ad utilizzare per la prima volta la mia Seika Spirit 520 grammi con i reali Abbinato ci ho messo il mulinello Redon di taglia 2000 e trecciato Viral dello 008 Così andremo a testare per bene la sensibilità della canna e come si comporta con le gomme Dunque ragazzi mi raccomando per altri video del genere lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale Se non siete dovresti iscriviti mi raccomando superiamo i 60 mi piace Dunque direi via con il video Dunque direi via con il video Dunque direi via con il video Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, fermo. Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, bello, bello. Opla, opla. Fortuna che ho guardato, fortuna che ho guardato è qualcosa per l'auto. Fortuna che ho guardato. Fortuna che ho guardato. Preso. C'è 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 drop? Sì. C'è drop sul fondale o... Sul TB70. Altro realino. Liberiamolo. Sì. Sono stati cefali comunque. I reali. Preso. Sono arrivato sul fondo e l'ha preso. Urca. Eccolo qua. Altro realino. Non so perché ho detto di nerd. Sì. Fai infatti. Sì. Quell'altro l'ho proprio fatto citare un po' dentro. L'hai fatto mangiare. Eh? L'hai fatto mangiare così. preso. Preso. Preso preso. Bello bello. 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 Bello voyale. Sono tutti belli. Sono pochi ma belli. Voyale. Opla. Are there? Non mi ricordo. Ci sono. Io adesso se mi butto a testina ti devasta. io adesso se mi butto a testina ti devasta faccio il pescione se mi butto a testina ti devasta e mi faccio il pescione ce l'ho perciottine butto sul crank preso preso bello 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 no dai tirava tanto però preso 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 in caduta bam c'è un bastardo tanto non sono tipo da prendere un mille per me è un mulinano troppo piccolo minimo duemila giornata a reali quindi l'attac e cana nuova andiamo a liberarlo ciao 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 liberarlo che bello questo reale peccato che l'ho mangiato proprio male bella e reale dobbiamo col liberarlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti